Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Angoli, io sono in compagnia della dottoressa Angela Bracuto, audioprotesista. Ormai Angela io ti do del tu perché stai anche con i nostri telespettatori, ormai sei un'abituita graditissima del nostro salotto, della nostra trasmissione. Vieni sempre a raccontarci, a darci dei consigli per come sentire e anche sentirsi meglio. Però oggi vorrei che ci concentrassimo su un aspetto in particolare, ovvero come utilizzare al meglio, nel migliore dei modi, nella maniera corretta, il nostro apparecchio acustico. Direi che comunque la simetta è vero che si va a stare meglio, però è un'introduzione di una novità, un cambiamento che si deve affrontare. Allora, qual è la maniera giusta per procedere, per utilizzarlo? Dunque, buonasera a tutti, innanzitutto. Dunque, la maniera giusta è quella di riabituarsi gradatamente, anche perché nella migliore delle ipotesi si tratta di ritornare a sentire in una condizione ormai lontana, nel senso che di solito quando si decide di mettere un apparecchio sono passati parecchi mesi, se non anni, da quando si è manifestato l'abbassamento dell'udito. Perciò alcuni suoni non li ricordiamo neanche bene per come sono nella realtà. E quindi il dover ritornare a sentire comporta il riabituare il nostro cervello a sentire tutto. E quindi è meglio procedere con cautela, nel senso che altrimenti è come essere catapultati in un ambiente molto rumoroso, in una discoteca, via, ricca di tanti stimoli, da un momento all'altro. Quindi sicuramente un aspetto importante è valutare da quanto tempo la persona che abbiamo di fronte non sente bene. E già questo ci dà l'idea di come procedere. E' sempre comunque buona norma ricominciare piano piano, utilizzando l'apparecchio acustico per poche ore al giorno, poi sempre di più, riabituandosi appunto a sentire. E rifrequentando un po' tutti gli ambienti, a partire da quelli domestici, che sono quelli più noti, più tranquillizzanti per noi, a quelli esterni, tipo andare a fare la spesa, andare anche a un concerto, a un convegno, insomma, riattivare tutte le relazioni che, guarda caso, nella maggior parte delle volte si sono anche ridotte per la problematica. È vero, di fatto si riacquista una dimensione della vita normale, però è comunque una novità per un paziente affetto da una patologia acustica. C'è da dire che, un po' come per tutte le circostanze, tutto è subito, non è possibile. Quindi tu intraprendi quasi una sorta di allenamento, una sorta di palestra per l'udito. Esattamente, il punto di vista è corretto, perché noi dobbiamo rimettere in funzione, in esercizio, tutto quanto, incluso il cervello, che si trova a decodificare una quantità di suoni decisamente superiori. Per cui facciamo esercizio, come per la palestra è opportuno allenarsi gradualmente, e non affrontare tutto subito, la stessa cosa vale per il discorso, per l'apparecchio acustico. Anche da un punto di vista proprio di regolazioni. Devo dire che la maggior parte dei pazienti tende a portarlo da subito, dalla mattina alla sera, sin dal giorno della installazione, mi sembra una brutta parola, dal giorno in cui lo inseriamo. Perché io tengo conto, proprio per affrontare questo processo nel modo più soft possibile, di questa problematica e quindi tendo a tarare l'apparecchio in modo inferiore rispetto a quello che sarà poi il punto di arrivo, in modo tale che ci si riabitui gradatamente e lo si voglia, e lo si possa portare tranquillamente già dal primo giorno per l'intera giornata, perché non ho questa aggressione acustica, ma già ricomincio a piccoli passi, ritorno nel mondo dei suoni. Che poi forse è anche la chiave per predisporre nel miglior animo i pazienti, perché tu mi raccontavi anche un po' nel preparare la puntata che non sempre c'è collaborazione, si sa che è una cosa che ci farà stare meglio, ma come per tutte le cure a volte, insomma, si è un po' titubanti. Sì, soprattutto all'inizio, poi la collaborazione emerge dopo, ma la maggior parte delle volte il paziente arriva non proprio spontaneamente, a me piace dire spintaneamente, spinto da chi? Dai familiari in genere, dai figli, dai nipoti, dal marito, dalla moglie, e di solito chi ha questa problematica tende a dire che non è vero, che sente benissimo, anzi sono gli altri. Quindi arriva non proprio pieno di entusiasmo e quindi la collaborazione iniziale bisogna un po' guadagnarsela e soprattutto stimolarli a collaborare. Una volta che poi si iniziano a vedere i vari miglioramenti, piano piano poi iniziano a collaborare, ma diciamo che all'inizio sono pochi, si possono contare proprio, sono pochi quelli che arrivano. Ma una volta che insomma incominciano a intuire che si può stare davvero meglio, quanto incentiva, quanto è di aiuto anche la motivazione che riesce a instillare in loro? Quanto devono essere? La motivazione è fondamentale, assolutamente fondamentale. Anzi va, questo è un consiglio per i parenti, va proprio stimolata, nel senso che va fatto capire loro che è importante non tanto per gli altri, ma quanto per se stessi. Sono persone alle quali noi teniamo molto e vogliamo che stiano bene e che sentano bene e che si sentano bene nell'ambiente, perché se uno ha qualche difficoltà, non facciamo fatica a credere che se faccio fatica a capire gli altri, pur di non fare la figura, tendo ad isolarmi, tendo a non chiedere, allora siccome io tengo a te, vorrei che tu avessi il meglio e tu stessi bene. Quindi questo potrebbe essere una chiave di volta, insomma. Obbligare mai, obbligare mai. Puntiamo proprio sul benessere. Esatto. Peraltro il supporto dei familiari, anche negli incontri, che so, ci tieni a fare con un accompagnatore, è utile per l'altro aspetto dell'abitudine che bisogna prendere, ovvero la gestione proprio fattiva, manuale, dell'apparecchio. È comunque una protesi che entra a far parte della nostra vita, con cui dovremo convivere e che ha delle esigenze, come qualsiasi dispositivo. Esattamente, esattamente. Io ci tengo molto ad avere, oltre la persona diretta interessata, anche qualche familiare, perché siccome bisogna prendere delle manovre nuove, dei comportamenti nuovi, che sono molto semplici, però sappiamo benissimo che qualunque novità preoccupa un po' tutti, in maggior modo le persone magari un po' avanti negli anni. Quindi sapere che io accanto a una persona che comunque mi può aiutare quando sono a casa da solo, o mi può dare un'occhiatina, è molto tranquillizzante e mi aiuta ad affrontare anche meglio magari le prime manovre di inserimento, la gestione del cambio della pila, per esempio. Sono tutte cose che il paziente può fare tranquillamente da solo, ma non crede di poterlo fare all'inizio. Quindi in questi primi passi è importante proprio fare squadra. Anche perché è una routine che poi lo diventerà, quella magari di fare attenzione alla pulizia, al maneggiare, alla doccia, però poi all'inizio è sempre un primo passo da affrontare. Assolutamente. Poi in genere viene anche utilizzato come motivo a sfavore. No, non lo voglio perché tanto io non sarò capace di usarlo, io non saprò metterlo, non saprò pulirlo, non saprò... Invece poi sanno, sanno. L'importante è volerlo naturalmente ed è qui che bisogna... ci sono chiaramente delle norme di buonsenso, è chiaro che io non posso fare la doccia con l'apparecchio, se uso una lacca o dei profumi opportuno che non me li metta quando ho l'apparecchio già indossato, devo avere quelle norme di attenzione, di buonsenso che sono tipiche, cioè che dovrei avere nei confronti di qualunque dispositivo elettronico, ovviamente delicato, ecco, questo non significa che non è maneggiabile, non è gestibile. Devo stare attenta, insomma. Esatto, un po' anche come un orologio fondamentalmente. Ma sì, un orologio, un paio di occhiali, un paio di occhiali certamente non è che prendo e... Insomma, attenzione, ecco il buonsenso è sempre vincente, secondo me. Forse dovrebbe essere utilizzato anche un po' di buonsenso nel cercare di affrontare con la miglior predisposizione d'animo i tempi comunque necessari per far sì che il nostro corpo, il nostro orecchio si riabitui ad ascoltare. Tu mi dicevi che in realtà molte persone arrivano da te convinte di sentire, ma solo perché hanno allenato la propria vista a leggere il labiale. A volte sorprende tornare a una condizione di acustica normale. Sì, sì, allora capita molto spesso, sempre all'inizio, che i pazienti dicano ma io sento benissimo, vede per esempio, stiamo parlando, io la sento perfettamente. Beh, peccato che stiamo parlando in un ambiente tranquillo dove non ci sono rumori di disturbo, primo punto. Secondo punto, siccome è naturale che quando si ha una problematica su un senso si attivino maggiormente gli altri, è chiaro che se ho difficoltà uditive tendo a leggere il labiale, anche se non ne sono magari consapevole. Allora, chiaramente che cosa si fa? Semplicemente ci si scherma la bocca con un foglio, un giornale, o ci si gira, mantenendo lo stesso volume naturalmente, e improvvisamente chiaramente non capiscono quello che dici. Nel senso che ti dicono, sento che sta parlando, ma non capisco che... Ah, ma sicuramente ha abbassato la voce. Ecco, non è vero, abbiamo l'accompagnatore, parente, amico, compagno, che dice, no, guarda che sta parlando allo stesso volume di prima. Ah, ecco. Tante volte bisogna proprio toccare con mano, come si dice, sbatterci il naso, per capire che le cose non stanno come noi pensiamo, o meglio, forse vogliamo convincerci che le cose stiano in un modo diverso. Però, insomma, è sempre il solito problema che ci raccontiamo da anni. È veramente semplice trovare una soluzione in questo ambito. Basta semplicemente accettare di fare questo primo passo e non pensare di essere diversi o di avere degli handicap o di essere giudicati. Come metto un occhiale, così metto un apparecchio acustico. Come metto una dentiera, un ponte, una capsula, così metto l'apparecchio. E questa è l'ottica giusta. È una soluzione. Non è un... non sono meno... il mio valore di persona non ne risente. Anzi, anzi, acquisto maggior sicurezza in me e posso meglio affrontare la vita sociale. Esatto. E poi, soprattutto, è proprio la chiave per tornare a sentire e a sentirsi bene. Angela, io ti ringrazio moltissimo per essere stata questa sera qui con noi a raccontarci ancora una volta come affrontare questo passaggio nella maniera migliore possibile. Grazie. Grazie a voi. Adesso, invece, saluto i telespettatori. Vi do appuntamento a domani. Adesso vi lascio alla rubrica Il lavoro che vorrei e a tutte le notizie di ETG. A domani. Grazie.